Garmin e Trex 22X Tasti zoom superiore e inferiore Premere per ingrandire o rimpicciolire Tasto indietro Premere per tornare al menu precedente Controller Strip Spostarlo per fare scorrere ed evidenziare una voce Premere per selezionare un elemento Tasto menu Premere per aprire il menu relativo ad una pagina Premere due volte per tornare indietro nel menu principale Tasto accensione Premere e tenere premuto quando si vuole accendere il dispositivo Premere e tenere premuto quando si vuole spegnere il dispositivo Quando il dispositivo è acceso Premendo il tasto accensione Si regola la retroilluminazione dello schermo Porta mini USB Nascosta dietro il coperchio protettivo Coperchio delle batterie Anello di blocco Del coperchio Sotto il coperchio troviamo L'alloggiamento di due batterie Del tipo AA E La possibilità di inserire una micro SD Per i dati che si vogliono mantenere in memoria E conservare nel tempo La durata delle batterie Due batterie del tipo AA E di circa 25 ore di navigazione Sotto la possibilità Di legare un laccio Per poterlo trasportare Qui troviamo L'attacco per la staffa Sempre per il trasporto Accendiamo il dispositivo Volete controllare Lo stato della batteria Premete il tasto accensione Continuando a premere Modificate la luminosità Oppure La modificate dallo stick Come desiderate Il display Vi segna L'ora La data Lo stato della batteria La situazione GPS Desiderate fare Delle modifiche Andate su Impostazioni Premete il tasto Questo Entrate in un sottomenu Che vi permette Di modificare Lo schermo Le mappe Reimpostare Andare su tracce E su qualsiasi altro elemento Voi desiderate Noi per esempio Adesso Andiamo Qui si modificano i toni Noi andiamo a modificare il sistema Andiamo a vedere Cosa c'è In un ulteriore Sottomenu GPS Glonax Oppure la lingua Oppure lo stato della batteria Premendo Vi dice Quale batteria Potete selezionare O scegliere In ogni caso Il sistema Lo fa L'accensione In automatico Così è successo In questo caso Mettiamo alcalina Sono delle batterie alcaline Da qui si torna indietro Sistema Andiamo sui GPS Potete selezionare Soltanto i GPS Quelli Più conosciuti Oppure Il doppio sistema Che è praticamente Un sistema GPS Un sistema Glonax Che sono ulteriori Satelliti Quelli Della Russia Per esempio Ecco Un sistema Messo a disposizione Dalla Russia Questo E3X22X Utilizza Questo doppio sistema Anche se lo si desidera Se voi volete Impostare Solo In GPS Utilizzerete Soltanto I GPS I satelliti Conosciuti Volete modificare Volete una maggiore precisione GPS Più GLONAS Da qui Tornate indietro Schermata Delle mappe Preimpostate Noi possiamo Selezionare Un punto Di nostro interesse Queste mappe Sono precaricate Per esempio Ci vogliamo Spostare In Francia Con lo stick Ci modifichiamo La lancetta Siamo su Parigi Andiamo ad ingrandire La mappa Che ci interessa Con questi tazzi Si ingrandisce E si diminuisce Ci da Una situazione Una situazione Più dettagliata La pesca Per esempio Se noi clicchiamo Su questo tasto Lui ci darà Una situazione Giornaliera Per esempio Ci dirà Quali sono Gli orari Migliori Per la pesca Torniamo indietro E adatto Anche alla Navigazione Marina Alla funzione Uomo A mare Se la attivate Orario di sveglia La calcolatrice E tante altre opzioni Che voi Poi scoverete Sul menu Quello che a noi serve In effetti E non perderci O non perdere La retta via Non smarrirla Come si fa? Si può andare Sul registra Guapoint Toccando Ci dà La nostra posizione Attuale Quindi registriamo Un punto Così facendo Abbiamo registrato Il guapoint Che ci interessa Qui ci segna La nostra posizione Possiamo Ingrandire O Diminuire La mappa E iniziare Una traccia All'umaca Vogliamo Ritrovare La retta via Che era smarrita Andiamo su Dove si va? Ci dice Guapoint Cioè Quelli che noi Abbiamo selezionato Oppure possiamo Andare su Foto Che abbiamo Precaricato Tracce Seguire le tracce Tipo traccia Civici E auto E autofficine Ospedali Quello che desideriamo Ma a noi Interessa Ritrovare Per esempio La nostra auto Siamo in montagna Ci siamo persi Dobbiamo tornare Nel punto di partenza Quindi Guapoint Ci segna Il guapoint Che noi abbiamo Selezionato Ne possiamo Selezionare Tantissimi E cercare Il guapoint Che ci interessa Noi Lo 0-1 Andiamo sul guapoint Vai Arrivo Fra 0-1 Siamo molto vicini Ok E ci dà La nostra traccia All'umaca Cioè i nostri spostamenti Possiamo seguire La traccia all'umaca Oppure Fare un'altra cosa Una traccia Molto più chiara Andiamo su bussola In questa condizione Lui ci indica La via Con un bel freccione Seguendo la bussola Ci dice La velocità La distanza Il tempo E altri dati Che ci Indicano la via E il tempo Che ci vuole Per percorrerla Ora Un regalo Per voi Che non troverete Scritto sul manuale Di istruzione Specialmente In quello rapido Bisogna andare a cercare Su internet Oppure A imparare Conoscere Le sue funzioni Come Cancellare I waypoint Scorrere col cursore Verso waypoint Manager Cliccare Entra E vi troverete Il vostro Waypoint Che avete Precedentemente Memorizzato Lo volete Cancellare Premere Questo tasto Una sola volta Vi appaiono Diverse voci Tipo Ricerca Scrittura Ricerca Vicino Oppure Elimina Tutto Andate Su Elimina Tutto Volete Eliminare Date Su Sì E avete Eliminato I vostri Waypoint Sembra Semplice Una Raccomandazione Che vi faccio Prima Di chiudere Il video Delle Trex 22x Garmin E quella Prima Di avventurarvi Dovete Studiare Il suo Sistema Il suo Funzionamento C'è da perdere Qualche Oretta Fate Anche Delle prove Di alcuni Percorsi Voi Potete Seguire Le mappe Preimpostate Potete Creare Nuovi Percorsi Potete Memorizzare Tutte Le vostre Coordinate Tutti i vostri Punti D'interesse Potete Utilizzarlo Al 100% Solo Dopo Che lo Avete Studiato Un pochettino Un pochettino Un pochettino Un pochettino